Erano preparati i ladri che hanno svaliggiato l'istituto comprensivo secondo polo di Casarano. Avevano una fiamma ossidrica con la quale hanno aperto la cassaforte in cui erano custoditi computer e tablet più di una cinquantina per un enorme valore in corso di quantificazione. Ad accorgersi del furto è stato un collaboratore scolastico al momento dell'apertura di primo mattino. Indagano i carabinieri della compagnia di Casarano. Maxi furto nella notte anche a Galatina. Qui i ladri hanno svaliggiato la pelletteria Dolly nella centralissima piazza Cesari. Hanno infranto la vetrina utilizzando un bastone e una volta all'interno hanno fatto razzia di borse per un valore di quasi 5.000 euro. L'allarme collegato al sistema antifurto li ha messi in fuga ma sono riusciti a caricare la merce a bordo di una station wagon e a scappare prima dell'arrivo dei poliziotti del commissariato di Galatina che indagano. Visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, pare che i componenti della banda fossero tutti a volto coperto.